Dopo due anni di permanenza nella serie cadetta, il Castel di Sangro retrocede in C, concludendo una esperienza che aveva fatto parlare di miracolo. E questa la conseguenza immediata della sconfitta, l'ennesima della stagione, patita oggi pomeriggio con il Foggia di Mimmo Caso, che invece rilancia le proprie quotazioni in chiave salvezza. Il gol che ha deciso l'incontro al sedicesimo del primo tempo, reca la firma di Vincenzo Chianese al suo quattordicesimo sigillo stagionale, che con un tocco morbido batte Cudicini e regala la vittoria ai suoi. Dopo una serie di occasioni sciupate, il Castel di Sangro, in pieno recupero, ha anche avuto l'opportunità del pareggio, ma Jonathan Spinesi si fa parare dall'ottimo Roma un calcio di rigore concesso da Cosimo Bolognino per un atterramento in area di Martino. Per il Foggia è festa grande, ma ci sarà ancora da soffrire. Per il Castel di Sangro è già tempo di ricostruire per tentare la risalita nel calcio che conta.